vai ecco la matteo alla guida della macchinina astronomica vediamo se è bravo è un fenomeno questo ragazzo ecco la mente riprende inquadriamo il giocatore matteo come potete vedere molto intrapreso guardate le sue mani come è un fenomeno questo può far comodo anche per le ragazze di tutta italia a 18 anni chiediamo e ora vi inquadriamo il nuovo gioco di matteo ecco ora lo mettiamo a fuoco ecco grande incidente ecco come ripresa siamo già bella a un minuto di tempo ecco un quadrato di replay go fatto è veramente un grande fenomeno via partenza e eccoci di siamo è l'ultima masch e poi finiamo il video è come potete notare ha una grandissima esperienza su questo gioco non possiamo dire imbattibile ma quasi ecco nel finale eccolo eccolo ecco arriva supera le altre macchine comincia ad andare a prendere la palla maniera con la porta dentro eccolo la fa il go ecco ripresa poi fermiamo perché siamo troppa memoria ha fatto gol come potete notare saboteci ha fatto gol e ecco giriamo il nostro grande campione cosa hai da dire il nostro grande campione di cosa lei cos'è un vero campione vero si si è il suo gioco più forte qual è tec perfetto ok saluta tutti i suoi amici avva finito ancora si ciao 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 ciao